Ed eccoci qua ragazzi dopo avervi portato una recensione in esterno ormai molto tempo addietro è quella del Samsung Galaxy A53 Oggi ci spostiamo di brand e parliamo del super protagonista anche degli ultimi mesi uno dei top di gamma più blasonati, più super richiesti, desiderati parliamo di Google Pixel 7 E allora noi abbiamo la sede del nostro studio qui a Modena quindi abbiamo detto ma perché non usciamo dallo studio e andiamo a farci un bel giro in centro e ve ne parliamo in centro e così è nato questo video Pixel 7 protagonista, noi a raccontarvelo beh io ve lo dico già da ora per quanto mi riguarda è il top di gamma da comprare quello che voglio comprare, io lo dico già ora e che ragazzi mi ha fatto innamorare di lui perché siamo arrivati a questo punto? beh seguite il resto del video perché noi stiamo per raccontarvelo speriamo che siete con noi e buona visione ma prima diamo spazio alla nostra sigla e ben ritrovati amici di Team Tech io sono Filippo, vi sto introducendo in questo racconto più che recensione ma ve lo voglio raccontare dal vivo questo dispositivo è Duomo con Ghirlandina perché ragazzi parliamo di design, parliamo di costruzione cioè come è stato costruito qualcosa e direi che lui è un esempio perfetto di come si costruisce per bene qualcosa perché direi di essere abbastanza simbolico e proprio parlando di simboli iniziamo a parlare del suo design e della sua costruzione dunque ragazzi iniziamo subito da questa back cover posteriore molto simile a quella del fratello che ormai è anche predecessore e beh piccolino è un display da 6.3 pollici che si va a incastonare qui dentro parliamo della back cover Big G qui subito tutta in vetro abbiamo questa bar che a me piace c'è chi non piace è sicuramente un design soggettivo divisivo perché divisivo quanto mai ma rispetto al passato la bar è in alluminio così come vale anche per il frame del dispositivo questo vetro è di qualità, non è di qualità qual è il touch and feel? ragazzi è un top di gamma premium a tutti gli effetti io l'ho preso in colorazione bianca banalmente perché il bianco non trattiene le impronte cosa che il nero fa ed è molto molto bello alla vista prendendolo in mano appare un dispositivo top di gamma a tutti gli effetti quindi touch and feel di premium sai di avere un blocco di vetro unico in mano con questa bar che fa da padrone e che gli dà un design iconico e incriticabile vi devo aggiungere qualcosina a riguardo e cioè colorazione bianco ghiaccio quella che ho preso io perché l'ho presa perché non trattiene le impronte peso 197 grammi quindi dimensioni contenute si tiene veramente molto bene in mano e questo me l'ha fatto amare perché io non sono troppo amante dei padelloni soprattutto certificazione IP68 contro acqua e polvere che toglie il dubbio, aumenta la sicurezza ci fa stare tutti più sereni bene così mercato storico albinelli dietro di me per parlarvi di display e audio beh com'è il display pannello da 6,3 pollici luminosità che ora andrò normalmente ad aumentare al massimo massima fino a 1400 nits che è una luminosità elevata per un pannello OLED full hd plus 90 hertz veramente un signor pannello un display che non fa rimpiangere nessun'altra soluzione e la risoluzione giusta si legge benissimo anche perché 6,3 pollici non è troppo grande e i colori sono veramente molto ben calibrati non troppo saturi non slavati ma fedeli alla realtà e questo permette sia di farci della content creation come la faccio io ma tranquillamente anche di utilizzarlo per la visione di contenuti multimediali con totale piacere ora parliamo di hardware prestazioni e connettività parlando di hardware beh ragazzi qui abbiamo a bordo il nuovo SOC Tensor G2 è un system chip made by Google fatto in casa a 5 nanometri e pensato per ottimizzare al meglio proprio il processo produttivo di questo sistema basato sull'esigenza della Pixel UI come si comporta? beh affiancato da 8 giga di RAM e storage da 128 a 256 va veramente alla grandissima fluidissimo sistema super reattivo con i 90 Hz un burro si naviga che è una meraviglia sì le applicazioni sono veramente velocissime ad aprirsi ma anche proprio nell'esecuzione delle stesse senza considerare anche tutto ciò che riguarda il reparto gaming e produttività che è possibile realizzare al meglio si gioca veramente divinamente a tutti i titoli non c'è un titolo che lo manda in difficoltà rispetto a uno snap 8 gen 2 magari si perde qualcosa sul punto di vista del frame rate che non è elevato alla stessa maniera però veramente rimane un chip top di gamma che non lo si può criticare e che evidenzia proprio la continuità che c'è stata rispetto al passato nessuno stravolgimento ma ottimizzazione del predecessore per rimare tutti i difetti che erano stati evidenziati scalda poco poco ma non vi darà alcun fastidio perché assolutamente non è tale da essere criticato si parla di connettività e poi fondamentale che un top di gamma beh ce l'abbia al top che sia affidabile completissimo sul punto di vista della connettività e qui è così abbiamo 5G Wi-Fi 6 abbiamo il GPS NFC GLONASS Bluetooth 5.2 supporto a nano SIM più i SIM non manca nulla se vi parlo di Wi-Fi connessione beh queste sono al vertice del settore come giusto che sia ma vi devo anche dire che la ricezione è nella media con porto telefonico si sente bene prende bene c'è qualcosina che si perde magari rispetto a Huawei rispetto a un brand come Motorola comunque storici e al vertice da quel punto di vista lì della ricezione però comunque prende bene si sente bene per cui perché dovrei andare a puntigliarlo più di quanto sia realmente necessario c'è chi ha detto paracadute sulle spalle e let's go io vi dico accademia alle spalle e let's go siamo qui per parlare delle fotocamere che sono l'oggetto super protagonista di questa recensione perché ragazzi delle sue foto io me ne sono innamorato lasciamo perdere il comparto tecnico che rimane invariato rispetto all'anno scorso abbiamo principale 50 megapixel abbiamo la grande angolare e abbiamo una frontale che è passata a 10,8 megapixel ma non sono questi dati a essere importanti ma sono come lui scatta le foto cioè divinamente il punto è scatto ora vi metterò una marea di foto scattate qui insomma un'impressione il punto è scatta è mostruoso non sbaglio un colpo qualunque condizione luminosa qualunque scenario anche nelle foto in movimento lui tira sempre fuori una foto perfetta è incredibile HDR tra l'altro che lavora divinamente il primo smartphone su cui trovo veramente utile l'HDR perché rende meglio di quanto farebbe senza vi parlo al volo della grande angolare anzi vi dico prima della grande angolare night mode anche qui funziona super bene grazie alle ottimizzazioni di google software google ci sono anche le funzioni per l'astrofotografia e una marea di funzioni software grande angolare potrebbe lavorare meglio potrebbe però di giorno sono comunque ottimi scatti di notte sono scatti sufficienti quindi non mi sento di renderla una criticità importante anteriore beh i selfie sono sempre definiti saturi come vanno bene per i selfie quindi per instagram consigliati anche questi veniamo invece ora a parlare di video che si spingono fino al 4k 60 fps stabilizzati in maniera granitica anche facendo scale andando su pavimentazioni tutt'altro che ben livellate ma assolutamente scoscese lui continua sempre a compensare e a restituirci dei video perfettamente adatti sia a livello di gestione luminosa sia a livello di colori non è mai troppo saturo ma non è neanche scarico quindi proprio molto fedele alla realtà raga questi sono video perfetti per un content creator perfetti per chi è con lo smartphone oltre a pubblicare per instagram ci lavora anche vi parlo ora del software qui google pixel 7 arriva tra le nostre mani con android 13 personalizzato con la pixel ui quella che tanti chiamano pixel experience e va bene così perché questa è una vera e propria esperienza di software non abbiamo un semplice android ma troviamo l'accuratezza la precisione l'attenzione ai dettagli veramente fatta interfaccia icone animazioni cioè voi utilizzere dello smartphone per il piacere di farlo per vedere quelle animazioni che a 90 hertz veramente sono una meraviglia per gli occhi e poi vi devo aggiungere tutte quelle funzioni di intelligenza artificiale che google ha qui inserito veramente questa è a mio avviso la migliore personalizzazione android se la gioco veramente solo con one way perché sul lato android non trovo rivali è un'esperienza d'altronde non è un caso che chi prova pixel solitamente non torna affatto indietro parliamo ora di quanto dura questo dispositivo venite con me allora vi dico batteria da 4355 mAh ora che è più piccola rispetto al passato ma c'è un motivo il tensor g2 consuma meno e qui ci sono tutte delle ottimizzazioni software che prima non c'erano e infatti quanto dura beh in interna siamo anche fino ma anche oltre le 6 ore di utilizzo di display che poche non sono per nulla in esterno comunque le sue 4 ore e mezza 5 ore si portano sempre a casa ricarica avviene a 30 watt signori siamo in conclusione di questa nostra avventura di oggi ma prima dobbiamo chiudere dicendovi il prezzo del dispositivo attualmente quello 610 euro 828 venduto e spedito Amazon che per un top di gamma uscito 3 mesi fa mi sembra un prezzo onestissimo ma questo non per la svalutazione perché lui comunque è stato rilasciato a 649 cioè Google quest'anno è stato il brand che è uscito sul mercato con i top di gamma più economici a disposizione e io vi devo dire la verità lui per 600 euro è perfetto è perfetto perché al netto forse dell'audio di qualche sbavatura qua e là vi portate a casa un dispositivo che è un'eccellenza nel software perché qui abbiamo tutte quelle funzionalità di intelligenza artificiale di cui vi ho parlato ora le foto perfette sempre in qualunque condizione non c'è non c'è modo di criticarlo in maniera pesante se non dicendovi che per me lui rimane il top di gamma da comprare quest'anno e quello che consiglio quest'anno spero però che come io abbia consigliato questo dispositivo voi siate disposti a consigliare il nostro video se così fosse mi auguro anche che lasciate un mi piace per farci capire che è stato di vostro gradimento trovate i commenti sempre aperti per scriverci tutto quello che vi va iscrizione al canale per i contenuti futuri campanella per rimanere sempre aggiornati un saluto da Filippo ci vediamo in un prossimo video